e quello che cos'è? Quello, quell'oggetto brillante ah, grazie non sai quanto tempo ho aspettato per avere questo tutti gli altri frobozzi che Ruper ha abbindolato non sono mai tornati a a a a Sì Qui una volta c'era l'aggregato di Fibo Canucca cominciò a comportarsi in modo strano dopo essere venuto in contatto con questa cosa Una sera si è introdotto qui di nascosto e ha scambiato l'aggregato con un falso Salve, devi essere venuto da lontano Sin dall'inizio del regno dell'oscurità non molti visitano il tempio C'è soltanto un dispositivo magico in grado di infrangere il muro dell'illusione che consente al male di prosperare Il dispositivo era un disco che fu rotto e i cui pezzi vennero divisi e nascosti Il disco deve essere forgiato nuovamente Non so esattamente come ma l'orbe che stai portando convergerà alla luce Hai la vera spada, permettimi di benedirla Ti servirà fedelmente nella tua lotta contro il male Ti ricordi quell'aggregato? Lo chiamavamo la follia di Fibo Quello che si è portato via Canucca Quel Canucca Che tipo? Sai che ci è voluto quasi un decennio per capire che era Tocco? Sei un po' maldestro per questo tipo di lavoro, no? Non si può essere troppo pignoli di questi tempi Tiè, ne avrai bisogno Aspetta! La tua spada deve essere uno dei nostri Generale, abbiamo il portatore della spada dei nani di Zor Bene, ci serve tutto l'aiuto disponibile Quanta illuminite ci rimane? Per il momento ne abbiamo a sufficienza Un momento, fammi capire bene Per il momento abbiamo illuminite in abbondanza Sì signore, è ammassata a sinistra dell'armeria Dove? Laggiù Dove? Non vedo Mi sono scordato gli occhiali Tieni dritte quelle righe È proprio là È a posto Oh A sinistra A sinistra Giusto Tieni dritte quelle righe Tieni dritte 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 L'illuminite attira la magia nera come una calamita. L'illuminite attira la magia. L'illuminite attira la magia. L'illuminite attira la magia. Durante la grande diffusione. L'illuminite attira la magia. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.